Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come state? Spero molto molto bene. Oggi sono qua solo per voi, per ricreare il mio primissimo video, nel quale facevo tutti gli stili di ASMR. Questo inoltre è un video di quattro anni fa, perché è uscito il 30 dicembre del 2019, se non sbaglio. Quindi ne è passato di tempo e appunto oggi lo voglio ricreare un po' più come lo farei adesso. Perciò, senza dire altro, indossa un paio di cuffie o auricolari, stenditi sul tuo letto e cerca di dormire. Va bene. Io inizio. Questo libro è lo stesso che avevo usato. Ciao. 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 Rilassite. Rilassite. Guarda i movimenti delle sedole. Sì, 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 sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ho le mani un po' secche. Guarda questo dito. Ora guarda quest'altro. Perfetto. Ricordo che anni fa il finger flattering andava un sacco di moda. Perfetto. 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 In questo caso ho dovuto prendere un asciugamano diverso da quello del mio primissimo video. perché non credo di avercelo ancora in casa. Perfetto. 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 Sì. 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 Adesso come eating sounds ho qui dei cioccolatini perché erano la prima cosa che avevo. Sì. 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 Un cioccolatino basta come eating. Sì. Dobbiamo ricordarci che sono comunque le tre di notte. Sì. 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 Alla prossima Stanotte ho problemi a controllare il respiro Stanotte ho problemi a controllare il respiro adoro imarza Grazie a tutti Piacere, mi dica, sì, lei è qui per comprare una candela e ha detto che vuole qualcosa che nessun altro ha qualcosa di nuovo Sì, abbiamo esattamente quello che cerca perché sono arrivate due nuovissime candele che le farò annusare Sono di Tesori d'Oriente e profumano un sacco Annusi da questi buchini laterali Mi faccia sapere se le piace Molto buona però Ma ne ho un'altra che io adoro ancora di più Questa qua Annusi Veramente buona, sì Quindi quale vuole prendere? Questa qui Perfetto Tenga lei e buona giornata Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto Ho cercato di utilizzare più oggetti possibili Di attenermi il più possibile al mio primissimo video Quindi spero che sia andato tutto bene Io ora dico Cucu, cucu Ora tocca a te Iscriviti al canale se sei nuovo Per entrare a far parte della OOPS community Lascia un like Un bel commento Se ti va Il video di oggi finisce qua Ma se tu vuoi restare ancora insieme a me Io ti lascio Di qua il mio video precedente Di qua una mia playlist E qua il tasto per andare sul mio canale E vedere tutto quello che vuoi Video e shorts Io ti mando un grande bacio E buonanotte 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 Buonanotte